Per noi utenti Canon è difficile trovare delle ottiche originali che rimangano performanti anche nel momento in cui andiamo a utilizzare un sensore APS-C. Giusto? Ebbene, oggi andremo a vedere che forse qualcosina di performante Casa Canon ce l'ha tirato fuori. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e ovviamente su questo canale parliamo di fotografia con tutto quello che ne consegue. Avrete notato se seguite il canale da un po' che c'è stato qualche cambiamento di setup, infatti abbiamo cambiato ufficio. L'ufficio nuovo è più grande di prima, però abbiamo pensato di gestirci meglio gli spazi e quindi il setup potrebbe diventare qualcosa di simile a quello che vedete adesso, che comunque è sperimentale, quindi ci stiamo ancora lavorando. Fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale così se vi interessano argomenti come quello di oggi, quindi unboxing, recensioni, fotografiche, non andate a perdervi i prossimi contenuti. Ma veniamo subito al dunque. RF 35mm f1.8. Un'ottica che a me non aveva convinto quando uscì e quindi ci ho messo un bel po' a farmi convincere. E il motivo per cui alla fine ci siamo dotati di quest'ottica è che volevamo sfocare maggiormente lo sfondo. Quindi un'apertura maggiore era quello che ci interessava, quello che mi interessava, perché in un contesto da studio, quindi con il backdrop, anche se è tutto a fuoco, quindi stavamo usando un'ottica un pochettino chiusa, stavamo usando un f5, in quel caso non creava nessun problema. Invece in una situazione di questo tipo secondo me avere tutto a fuoco distrae molto. E quindi ho preferito spostarmi su un'ottica che comunque è più leggera di quella di prima, comunque è più piccola di quella di prima. Comunque io mi aspetto che sia anche più nitida, perché stiamo comunque parlando di un'ottica a focale fissa, un'ottica prime. Quindi io credo che questa lente potrebbe essere più nitida rispetto al 24-105 STM che stavamo usando prima. Ma lo andremo a scoprire insieme solamente quando monterò questo video, perché questa è la prima volta che la utilizzo. Due paroline veloci per quanto riguarda l'unboxing. Questo unboxing è finto. Lo sapete, io non resisto, faccio sempre così. Infatti voi state già vedendo il 35mm montato sulla mia iOS R7, per cui io non ho granché da farvi vedere dalla scatola. Ma c'è anche da dire che non c'era granché in questa scatola. Infatti qui abbiamo il solito packaging di Canon, piccolo, ovviamente una lente piccola, quindi una scatola piccola. All'interno della scatola c'era questo pluriball con le bolle molto massicce, che conteneva l'ottica, ma non c'era veramente nient'altro, a parte il libretto di istruzioni in sumero, che credo quasi nessuno di noi va poi veramente a leggere. C'era ovviamente l'ottica con il coperchio per la baionetta e il tappo, che poi andiamo a tenere montato sul nostro obiettivo quando non è in utilizzo, ma non c'era veramente nient'altro. Quindi niente borsa per il trasporto e niente paraluce. A questo proposito ho visto che esistono dei paraluce di terze parti su Amazon, ho guardato qualcosina, però devo dirvi la verità, non mi hanno convinto, perché a me è sembrata una soluzione paraluce abbastanza inefficace. Cioè dei paraluce montati a vite che non schermano praticamente niente, quindi ho deciso di utilizzarlo semplicemente così com'è. Andiamo a dire due paroline su quest'ottica. Sicuramente è un obiettivo molto piccolo, molto leggero, pressoché tascabile, quindi molto portabile, adatto a molteplici utilizzi, perché visto che ha un'apertura più che decorosa e sicuramente un'ottica parecchio veloce, si presta a una miriade di contesti diversi. Può essere molto adatto a fare fotografia di eventi, può essere adatto a fare fotografia di viaggio o reportage. Se la lunghezza focale lo consente ci si può sicuramente fare anche un pochino di sport, quindi è un'ottica abbastanza versatile. Il fatto che abbia la stabilizzazione, se ricordo bene sono ben quattro stop di stabilizzazione, la rende molto molto adatta anche per fare video. Infatti uno dei motivi è proprio questo, noi l'abbiamo presa per fare video, ci faremo solo video, non so se faremo mai una foto con quest'ottica, tanto la qualità d'immagine già la vedete, quindi non è che ci sia granché da dire. La utilizzeremo quasi esclusivamente per fare video e in certi frangenti lo stabilizzatore servirà, nel senso che quando faremo delle riprese a mano libera sarà molto comodo avere quest'ottica con lo stabilizzatore. In questo momento è spento ovviamente perché sta su tre piede, però nel momento in cui andremo a fare delle carrellate magari a mano libera sarà sicuramente molto comodo avere lo stabilizzatore integrato. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di quest'ottica è che sostanzialmente è un'ottica macro, quindi permette di avvicinarsi molto al nostro soggetto e questa è una cosa che a me piace sempre molto. Io non sono un fanatico della macro, ok? Ne faccio poca in vita mia, però quando mi danno un'ottica pensata per fare qualcosa, in questo caso questo è un 35mm, quindi è pensato per fare secondo me ritratto, reportage, cerimonia, montato su una PSC diventa praticamente un 50mm, quindi rimane pensato più o meno per quello scopo lì. Io la utilizzo per fare video di questo formato, come avrei potuto usare un 50mm su full frame, quindi non ci discostiamo troppo, però pensare che io mi posso avvicinare a dismisura e quindi andare molto vicino a quello che sto riprendendo, e quindi con la stessa ottica, se io vi sto facendo vedere una macchina fotografica posso avvicinarmi tanto a quella macchina fotografica per farvi vedere dove è collocato un pulsante o per farvi vedere come funziona una ghiera o un menu senza cambiare ottica e senza variare lo zoom, perché questa è un'ottica prime, quindi lo zoom non ce l'ha. Questo per me è un plus immenso, perché tenete conto che quando io sto facendo un contenuto di questo tipo io non voglio variare lo zoom, pensate a che cosa succederebbe se io variassi lo zoom tutte le volte, poi avrei i video tutti diversi, invece io non voglio variare zoom tutte le volte, io voglio avere una lunghezza focale fissa che però mi permetta di andare avanti e indietro quanto cavolo voglio io, e questa lente si presta esattamente al mio scopo. Un'altra cosa che devo confessarvi mi ha sorpreso positivamente è l'attacco della baionetta, su un'ottica come questa con le vecchie monte EF mi sarei aspettato una baionetta in plastica, ho un paio di ottiche con la baionetta in plastica, devo dire la verità funzionano, non è che smettono di funzionare solo perché hanno la baionetta in plastica, quindi sfatiamo questo falso mito, non è che la lente esplode se ha la baionetta in plastica, funziona lo stesso, però la lente con l'innesto in metallo è meglio, è meglio a livello di feeling, è meglio anche a livello di durevolezza, quindi qui abbiamo a che fare con una normalissima baionetta in metallo, e quindi questo mi ha reso veramente molto contento. Dovremmo fare un discorso anche sui filtri, allora io qui vi faccio vedere, io qui ho un filtro ND non variabile, nei prossimi giorni mi dovrebbe arrivare un filtro ND variabile che vorrei provare a montare su questa lente, ho provato questo, vedete questo è un filtro che va a scurire l'immagine sostanzialmente, facciamo anche un piccolo test della messa a fuoco, come potete vedere la messa a fuoco è abbastanza rapida e abbastanza silenziosa, perché io da qui non la sento, il mio microfono neanche, quindi se non la sento io e non la sente il microfono, vuol dire che la messa a fuoco è silenziosa. Una cosa che avrete notato è che non è fulminea come messa a fuoco, nel momento in cui io vado a mettere a fuoco una cosa vicina, e poi deve tornare a rimettere a fuoco su una cosa lontana, lo fa, lo fa bene, non ho lamentele da fare, questa non è una lamentela, però riscontro che è più lento rispetto ad altre ottiche che ho, quindi non è un fulmine di guerra a focheggiare, questo dipende sicuramente dal fatto che essendo macro ha più range lungo il quale andare a verificare la messa a fuoco e quindi ci mette un pochino di più. Devo dire che non è neanche sgradevole, perché il fatto che ci metta un po' a passare da un piano all'altro rende tutto molto burroso, molto fluido e quindi va anche bene. Le cose di cui volevo mettervi al corrente riguardando i filtri sono sostanzialmente due. La prima, io ho fatto fatica a trovare i filtri, perché la prima cosa che ho pensato una volta presa è che difficilmente in uno studio con un setup che andava bene con un'ottica da f5 avrei potuto utilizzare un'ottica da f1.8 senza cambiare nulla. Quindi una delle prime cose che ho pensato è che potrebbe farmi molto comodo un filtro ND variabile, o comunque questo qui è da due stop, per andare a tagliare un po' di luce in maniera tale da non dover cambiare tutti quanti i parametri. Ho fatto fatica a trovare i filtri, perché non è facile trovare questo diametro. Questo è un diametro, è un 52 mm di diametro ed è un diametro poco utilizzato. Diciamo che per quello che ho potuto riscontrare io i diametri che vanno per la maggiore sono 67-77 mm. Ho visto qualche 82, qualche 90, però insomma diciamo che se si va poi a investire su set di filtri si cerca di andare su un diametro maggiore. È difficile che qualcuno investa su un diametro così piccolo e vada a prendere filtri su qualcosa di così piccolo, per cui non sono così facili da trovare. La seconda cosa che vi segnalo è che i filtri pensati per un diametro di 52 non sono, almeno quelli che ho avuto modo di trovare io, e non sono tanti, però quei pochi che ho trovato non sono di qualità eccelsa. Infatti in questo momento io non lo sto montando, perché ho notato che mi cambia il colore in una maniera che non mi piace. E quindi ho preferito mantenere la tonalità che vedete a video effettivamente, perché andare a montare un filtro che poi mi va a modificare drasticamente il colore è una cosa che non mi fa impazzire. Quindi sperimenterò con degli altri filtri e vi farò sapere se ne trovo qualcuno degno di essere utilizzato, perché altrimenti credo proprio che continuerò a utilizzarla senza filtro in questo modo. È una soluzione un po' intermedia, però preferisco piuttosto che andare a rovinare il colore. La color size di Canon che mi piace tanto, io sto usando il log, sto facendo tutta una serie di cose per avere il colore come lo voglio io, andare a mettergli davanti un filtro che mi cambia quel colore in peggio non è una cosa che mi rende tanto felice. L'altra cosa che vi segnalo è che ho fatto comunque degli esperimenti su questo filtro e la cosa che non mi è piaciuta tantissimo è che comunque riscontro che con un filtro ND da due stop, che quindi non è tanto, però con un filtro ND già da due stop, la macchina fa fatica a mettere a fuoco. Quindi io adesso andrò a cercare una soluzione per tagliare un po' di luce, ma credo che utilizzerò un filtro da meno di due stop, perché comunque già tagliando due stop l'immagine diventa più scura e ho visto una difficoltà della macchina nel tenere a fuoco, soprattutto agganciando sull'occhio, io adesso ho la messa a fuoco che aggancia l'occhio e che funziona, devo dire funziona, non ne sono scontento. Però andando a montare un filtro fa molta più fatica e con un f1.8 è una cosa che forse non ci possiamo e non ci vogliamo permettere. Quindi è possibile che questa sia un'ottica con cui poi si ha un problema a lavorare coi filtri. E vi farò sapere in un capitolo successivo, perché se dovesse effettivamente essere così, se dovesse essere un'ottica con cui non si riesce a mettere a fuoco con dei filtri ND, questo sarebbe molto penalizzante, perché vuol dire che io in fase di ripresa video non potrei più lavorare seriamente come videomaker, ma dovrei adattarmi ai limiti della lente. Quindi questa è una cosa che vi farò sapere e siccome ve la farò sapere in un capitolo successivo, la prima cosa che facciamo è che vi invito a iscrivervi al canale in maniera tale da non perdervi i prossimi aggiornamenti. Se lasciate anche un like a questo contenuto mi fate capire che chiacchierate di questo tipo su strumentazione varia ed eventuale può riscontrare il vostro interesse. Ricordatevi di farmi sapere in un commento anche che cosa ne pensate di questo setup. Mi rendo conto che è un pochettino più confusionario rispetto al backdrop grigio cemento di prima, però secondo me è anche un pochettino più vivace. Tenete conto che questo è un ufficio, quindi normalmente ci sono le luci da ufficio. Ho cercato comunque di renderlo un po' più carino con una lampadina ornamentale e un altro paio di cosine. C'è la mia solita lucetta blu, ci sono un paio di cose di cui non mi sono voluto privare, però insomma fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate. E se doveste ancora essere indecisi su quale sia la fotocamera perfetta per le vostre esigenze, io vi lascio linkato qui in card un video che vi aiuterà a prendere la decisione migliore per quanto riguarda la vostra prossima ottica. Signori, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.